spesso soprattutto in passato ti ho presentato diversi software che utilizzo per lavoro e si tratta di software molto specifici che solitamente tengo in tasca nel mio pendrive e che mi sono utili nelle varie situazioni in cui mi vado ad imbattere nel corso delle mie giornate lavorative tuttavia c'è un software estremamente versatile che è capace di fare praticamente tutto quanto da solo e spazia addirittura dalla rimozione dei virus fino alla diagnostica dei problemi hardware perché non te l'ho presentato prima è presto detto perché non lo conoscevo nemmeno io l'ho conosciuto infatti grazie ad alcuni membri della community che ringrazio di cuore e in questi giorni ho avuto modo di testarlo accuratamente e poterne scoprire tutte quante le varie infinite potenzialità e allora andiamo a conoscerlo anche noi ti senti pronto iniziamo spesso molti mi hanno chiesto come mai continuo a darmi quella che loro definiscono la zappa sui piedi spiegando i segreti del mio mestiere ebbene questi non sono i segreti del mio mestiere i segreti del mio mestiere sono altri e soprattutto non sono segreti sono semplicemente delle cose che occorre molto tempo per imparare quello che invece ti voglio spiegare con questi video è che ci sono una serie di operazioni che puoi fare tranquillamente da solo che ti consentono di fare delle piccole riparazioni e manutenzioni sul tuo computer senza aver bisogno ogni volta di chiamare un tecnico esterno chi è? c'è l'idraulico signora? ah la faccio entrare Lucia buonasera signor sono spagliaro come mai è arrivato così in ritardo? ho infrosciato la macchina li mortacci loro a dove sta accesso? e di là venga che l'accompagno dovrebbe cambiare la guarnizione devo dire che l'immagine che molti hanno dell'arrivo del tecnico informatico a casa propria non è estremamente dissimile rispetto a quella che ti ho appena mostrato con il buon pozzetto ma veniamo a noi il software che sto per presentarti è veramente un factotum ma molto diverso dai vari software onnicomprensivi che ti ho presentato in precedenza ti consente infatti a partire da una diagnostica hardware del tuo computer e quindi dal dirti quali periferiche non funzionano e vanno magari sostituite a darti una panoramica completa di tutto quanto l'hardware installato e a consigliarti ad esempio nel caso in cui tu voglia aumentare la ram esattamente quali barrette di ram andare ad acquistare e quanti slot liberi hai per andare ad allocarle insomma una bella comodità ma non si ferma qui infatti copre una serie di aspetti software come ad esempio il backup e il ripristino l'installazione e la rimozione dei file la manutenzione ordinaria e straordinaria del nostro sistema è come se questo non bastasse dispone anche di una serie di strumenti antivirus può essere messo tranquillamente su un pendrive come dicevo in apertura ed usato in modalità portable in modo da avere una padronanza completa del proprio computer per andare a procurarci questo software come sempre dovremo semplicemente aprire il nostro browser e nel motore di ricerca andare a digitare come sempre gentiluomo digitale effettuiamo la nostra ricerca e andiamo ad aprire il primo risultato e cioè quello relativo al dominio www.gentiluomodigitale.it una volta aperto ci porteremo qui in alto sulla sezione downloads e nella pagina scendiamo un pochino più in basso oppure potremo anche te lo ricordo sempre utilizzare la lente di ricerca fino ad individuare il software che si chiama windows repair toolbox per scaricarlo facciamo clic sul grosso pulsante azzurro file download e vedremo che in breve partirà lo scaricamento del file che è relativamente piccolo come al solito infatti occupa 3,6 megabyte andiamo quindi a fare clic sul pulsante mostra nella cartella e una volta che si apre la nostra cartella dove avremo scaricato il file compresso potremo chiudere la finestra del browser retrostante trattandosi di un file portable che quindi non richiede alcuna installazione il mio consiglio differentemente da quello che farò io adesso è quello di copiarlo su un pendrive e magari tenerlo in tasca in modo tale da poterlo usare alla bisogna su qualunque computer tu voglia io comunque andrò a scompattarlo direttamente qui dentro ma tu fai conto semplicemente di aver copiato questo zip sul tuo pendrive a questo punto facciamo clic destro e andiamo a scegliere la voce estrai tutto e quindi clicchiamo sul pulsante estrai in alcuni secondi il nostro programma viene scompattato sulla cartella che si chiama windows repair toolbox per poter lanciare questo programma utilizzeremo l'eseguibile che si chiama assolutamente nello stesso modo ovvero windows repair toolbox quando lo andiamo a lanciare per la prima volta ci accorgeremo che si apre lo smart screen di windows per un motivo molto ben preciso anzi due il primo è che questo programma non è ben conosciuto da windows quindi windows non si sente di garantire per la sua sicurezza e questo è normale devo dire che il programma non lo conoscevo nemmeno io ma l'ho testato fino in fondo e ho potuto verificare che è assolutamente corretto tanto più che tra un po' vedremo insieme che questo programma di suo non fa assolutamente niente ma va semplicemente a servirsi di tool esterni peraltro molto ben conosciuti quindi possiamo andare a cliccare su ulteriori informazioni vedremo che il motivo è che l'editore è sconosciuto ma noi gli chiederemo di eseguirlo comunque come sto facendo io sulla mia macchina a questo punto andremo a consentire alla app di apportare modifiche al nostro dispositivo cliccando sul pulsante sì e una volta lanciato andremo ad accettare i termini di licenza d'uso cliccando sul pulsante I accept clicchiamo su start prima che finisca il conto alla rovescia e vedremo che partirà la prima installazione su pendrive del nostro programma in pochi secondi il programma si apre nella sua finestra principale e ci basterà fare clic su ok perché vedremo che sarà stato anche automaticamente aggiornato ma andiamo a vedere in che modo può esserci utile questo magico programmino già nella prima scheda quella che si chiama tools vediamo che abbiamo una serie di sottosezioni la sezione hardware la sezione useful tools la sezione repair uninstallers windows backup and recovery che cosa fanno queste varie sezioni e gli strumenti in essa contenuti per quanto concerne la sezione hardware troviamo naturalmente tutto ciò che è afferente all'hardware del nostro computer in particolare hardware info ci va a dare un'analisi completa di quello che è l'hardware installato sul pc hardware monitor una situazione dello stato di salute del nostro hardware in particolar modo per quanto concerne i voltaggi le temperature e la velocità delle ventole cpu z e gpu z rispettivamente si occupano della cpu ovvero del microprocessore del nostro computer della scheda madre e del sistema mentre gpu z è più focalizzato sulla scheda grafica e ci va a dare informazioni sul suo relativo processore crucial ss è uno strumento uno scanner di sistema che ci consente di avere informazioni sulla memoria compatibile installata sul nostro sistema sul modello di scheda madre e il numero di slot disponibili per le espansioni di ram e fiumarc è uno strumento molto leggero che ci consente di fare uno stress test della scheda grafica ram expert è naturalmente focalizzato solo ed esclusivamente sulla ram e ci dà una serie di informazioni utili nel momento in cui dovessimo fare una espansione della ram stessa memory diag ci consente di fare una diagnostica dello stato di salute della nostra ram di skinfo ci va a dare una serie di informazioni per quanto concerne i nostri dischi meccanici ed ssd comprese informazioni sulla loro salute gs smart control ci va anch'esso a verificare lo stato di salute dei dischi installati nel pc stress test si usa prevalentemente sui computer nuovi e va a fare appunto un test di sforzo della macchina per vedere che non ci siano malfunzionamenti prevedibili infine batteri info ci dà naturalmente una serie di informazioni per quanto riguarda le batterie del nostro pc altri strumenti utilissimi li troviamo nella sezione backup e recovery che sono strumenti di copia di recupero dati di backup di recupero delle nostre chiavi di licenza il famosissimo clone app che abbiamo presentato in un video precedente che serve a clonare le nostre app da una macchina all'altra ed infine il dmd è uno strumento molto potente per la ricerca l'editing e il recupero dei dati sui nostri dischi nella sezione useful tools troviamo una serie come dice il nome stesso della sezione di strumenti utili abbiamo uno strumento di monitorizzazione dei processi attivi in windows un firefox portable nel caso in cui nessun browser funzioni sulla macchina per poter navigare comunque su internet uno strumento di gestione dei permessi di accesso ai file e le cartelle il wistri che serve a trovare file e cartelle che occupano molto spazio sul nostro computer il nir launcher che contiene una serie di strumenti della nirsoft una casa produttrice di software gratuiti prevalentemente incentrati sulla sicurezza e la manutenzione del computer così come gli strumenti della sys internals che in realtà è un'azienda gestita direttamente da microsoft che produce una serie di utility per ipc windows abbiamo poi lsdi origin che sarebbe l'installer del nostro snappy driver che abbiamo presentato tempo fa il macro rit che è un sistema di partizionamento per gli hard disk il don't slip che serve per andare a gestire le opzioni di spegnimento riavvio ibernazione del nostro computer ninite che ti ho presentato già in un video precedente che serve per installare in maniera sicura dei software sul nostro pc bluescreen che serve a verificare quali sono state le schermate blu e le loro cause qualora ce ne siano state naturalmente è l'app crash che serve a visualizzare quali sono le applicazioni che hanno causato dei crash sul nostro computer sì sono stato cattivo lo riconosco però mi rendevo conto che la mia spiegazione era molto soporifera e non volevo mai che tu ti addormentassi continuiamo nella sezione windows abbiamo degli strumenti di sistema che già conosciamo abbastanza bene di cui ho parlato in dei video precedenti come il check disk il task manager il dism e il disc clean up abbiamo poi l'event viewer che ci serve a vedere quello che è successo a livello di sistema del nostro computer ed infine il reliability monitor che ci dà uno sguardo a volo d'uccello sulla stabilità del nostro sistema abbiamo poi la sezione uninstaller che come agevole intuire serve a rimuovere il software installato sul nostro pc partiamo dal generico revo uninstaller che ci consente di disinstallare i programmi installati sul pc e che abbiamo visto in un video precedente sul canale a software specifici come ad esempio avremoval che consente di rimuovere gli antivirus dal pc regseeker che ci consente di andare a fare una pulizia del registro di configurazione del computer ultra search che serve a trovare file e cartelle specifici sul nostro pc in breve tempo il ddu che serve a rimuovere i driver installati sul pc e infine il java uninstaller che naturalmente va a rimuovere le precedenti installazioni di java la sezione repairs come vedremo a breve è in realtà una miscellanea di cose ma contiene nella fattispecie il complete internet repair che è un software che cerca di risolvere automaticamente i problemi di windows un fixer per lo spooler di stampa nel caso in cui non riusciamo a stampare va a resettare appunto lo spooler di stampa il windows repair all in one che abbiamo già presentato in un video precedente che anch'esso va a cercare di risolvere una serie di problemi sul nostro sistema e anche il net repair che fa sostanzialmente la stessa cosa per quanto concerne la rete il troubleshoot è lo strumento integrato di windows che cerca di risolvere automaticamente i problemi di sistema l'uninstaller di office l'account fixer che in realtà più che essere un fixer è uno strumento che ci aiuta nella creazione dei nuovi account e nello spostamento dei dati il free fixer che ci serve nel momento in cui vogliamo rimuovere del malware anche se vedremo che la sezione malware si trova un pochino più avanti l'sfc fixer che serve ad andare a correggere gli errori del file system e del registro di configurazione l'frst che consente di effettuare dei ripristini di sistema e anche di registro di windows il process explorer che ci mostra i processi in esecuzione tutte quante le chiavi di registro e le dll aperte sul nostro computer ed infine l'autorans che serve ad elencarci tutti quanti i programmi che vengono avviati automaticamente quando avviamo windows e devo ammettere dopo questa spiegazione che sono un po stanchino come diceva forest gump ragioniere al diavolo non è poi così brutto come lo si dipinge ho buttato giù 20 chilometri come se fosse un bicchiere d'acqua mi sento tutti i muscoli sciocchi buonasera ragionieri e dopo aver preso un attimo di fiato onde evitare di finire come il ragionier filini andiamo a vedere la sezione malware removal che contiene una serie di strumenti antivirus anti malware e anti hardware non solo oltre a questi contiene anche il ccleaner che io personalmente non amo particolarmente che anzi ti sconsiglio di lanciare un disc defrag per effettuare la defragmentazione del disco ed ancora una ripetizione degli strumenti che abbiamo visto in precedenza come windows riparo lin one e autorans che appunto ci consente di andare a vedere i processi in avvio automatico inoltre contiene una sezione per l'aggiornamento di windows per l'aggiornamento tramite winget per il patch my pc che anche abbiamo visto in un video precedente e per i driver intel passando invece alla sezione custom tools sappi solo che qui hai la possibilità di aggiungere in questo software dei tuoi strumenti preferiti che possono essere lanciati direttamente da questa interfaccia la sezione final test è l'ultima sezione veramente interessante in particolar modo perché ci consente di fare un quick check cioè un controllo veloce dello stato di salute del nostro computer e inoltre una serie di controlli specifici per vedere ad esempio se funziona correttamente java se si aprono i documenti in pdf se si aprono i documenti di word e così via oltre ad una serie di controlli in particolare sulla versione di windows sullo stato dei driver sul file host di cui abbiamo parlato in un video precedente e così via per quanto concerne l'hardware sul lato destro invece troviamo la possibilità di testare la nostra webcam e il nostro microfono nella sezione settings ti preannuncio che secondo me non va toccato nulla ma potrai effettuare ulteriori personalizzazioni di questo programma un'ultima precisazione per concludere ogni volta che andrai ad aprire per la prima volta un software come vedi questo verrà automaticamente scaricato e verrà installato all'interno del pendrive nulla viene installato sul computer resta tutto quanto sul pendrive e ti accorgerai che i software saranno diventati disponibili perché verranno bordati di verde quindi se prevedi di utilizzare questa chiavetta in mobilità magari su computer che non avranno a disposizione internet ti consiglio di scaricare a priori tutto quanto quello che ti servirà dai 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 che la giriamo il mitico rené ferretti è il suo pesciolino boris ti chiedo scusa se nel video di oggi non sono riuscito a mostrarti singolarmente tutte quante le funzionalità di questo sistema ma capisci bene che sarebbe stato letteralmente impossibile dato il loro numero e soprattutto la loro varietà quello che ti invito a fare è ad approfondirle con calma una per una a farmi sapere magari quelle che sono le tue preferite e quelle con cui non ti sei trovato bene naturalmente se avessi qualsiasi domanda o qualsiasi richiesta in merito puoi farmela nei commenti o meglio ancora sul forum dove devo dire che sono tutti molto più bravi di me e veniamo ai ringraziamenti del giorno anzi al ringraziamento che quest'oggi è tutto per thomas 29 15 che ha contribuito la vita del canale e della community con il suo super grazie ti ringrazio infinitamente caro thomas non sei nuovo a questi super grazie ed è una cosa che apprezzo infinitamente ma l'ultimo ringraziamento come ben sai rimane sempre qui ed è quello destinato proprio a te che hai guardato questo video ti sei sorbito tutta la mia lunga spiegazione e come premio non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima